Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con una ampia pagina di cronaca. Scacco matto alla droga a L'Aquila, ennesimo arresto a cura dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che si unisce ai brillanti risultati ottenuti con l'operazione Periferie Sicure coordinata dalla Compagnia dell'Aquila. Il servizio di Daniela Rosone. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell'Aquila, diretti dal tenente Maximiliano Papale, hanno arrestato due persone, entrambi aquilani, per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due arresti che si riferiscono a due episodi distinti, ma che testimoniano ancora una volta l'attenzione dell'arma nei confronti del territorio. Il primo arresto è avvenuto a Pile, zona già oggetto in passato di diversi furti, all'interno del parcheggio del centro commerciale Il Globo, dove i carabinieri hanno notato arrivare una Fiat Punto di colore bianco, il cui conducente frettolosamente entrava ed usciva dal centro commerciale. L'uomo ha insospettito i militari, che lo hanno fermato e controllato. In pratica, il romano, ma residente all'Aquila da diversi anni, classe 69, aveva occultati all'interno degli slip 52 grammi di cocaina in un involucro trasparente. All'interno del portafoglio, invece, è stato trovato un foglio con una rubrica telefonica molto ricca, contenente per ogni nome di persona un'indicazione in cifre in euro. Perquisita anche l'abitazione, dove è stato ritrovato un bilancino elettronico di precisione e 171 grammi di sostanza polverosa di colore bianco, idonee al taglio e al confezionamento delle singole dosi. Il secondo arresto, invece, rappresenta il proseguo dell'operazione periferie sicure, che si è conclusa solo qualche giorno fa all'Aquila e che ha permesso l'arresto di un cinquantenne aquilano e di un 35enne marocchino, considerato il grossista dello stupefacente. È proprio al cinquantenne che in occasione dell'arresto veniva trovato in possesso di 10 grammi di coca, 2 di hashish, di materiale vario per il confezionamento di singole dose di un bilancino, risultato intriso di sostanza stupefacente, il tutto ben occultato in vari ambienti della casa e che per tali fatti era stato momentaneamente sottoposto ai domiciliari, all'esito dell'udienza di convalida, alla luce della gravità dei fatti, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, subito eseguita dai militari con la traduzione dell'uomo presso la casa circondariale Le Costarelle di Preturo. Per entrambi i fatti sono tuttora in corso altre indagini, finalizzate ad accertare i canali di riperimento dello stupefacente. Non si esclude che possano essere gli stessi. Sorpresi a spacciare sulla riviera di Montesilvano sono stati arrestati dai carabinieri. In Manette ieri pomeriggio sono finiti tre senegalesi di 21, 33 e 40 anni. I tre sono stati presi anche grazie all'ausilio delle unità cinofile dell'arma. Nel corso del blizzi i carabinieri della compagnia di Montesilvano, agli ordini del capitano Vincenzo Falce, hanno trovato addosso ad uno dei tre 915 euro in contanti e 30 grammi di hashish con l'ausilio dei cani sulla spiaggia sotterrati. Sono stati trovati altri 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, tutto il materiale per il confezionamento. In serata sono stati anche ascoltati cinque giovani che nel pomeriggio avevano acquistato lo stupefacente sulla riviera. I tre sono finiti in carcere in attesa della convalida. La questura di Teramo corre ai ripari per tentare di smorzare il clima di tensione che sta salendo in città per la presenza domani di un banchetto di Casa Pound. Quest'ultimo sarà dislocato in Largo Melatino e non più in Piazza Martiri della Libertà dopo le proteste del movimento antifascista che ha ritenuto offensivo che i neri occupassero proprio quella piazza dedicata ai partigiani. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Una riunione tecnica di due ore si è tenuta in questura a Teramo per decidere le misure di ordine pubblico in occasione di due manifestazioni politiche di orientamento opposto che si terranno domani nel centro della città. Casa Pound avrebbe voluto raccogliere le sue firme in Piazza Martiri della Libertà. Questo non è piaciuto al centro politico comunista Sandro Santacroce che ha lanciato un invito a tutti i compagni teramani antifascisti a partecipare in massa al presidio per impedire alla formazione neofascista di avere uno spazio in un luogo cittadino che ricorda proprio la lotta partigiana. Il movimento antifa-teramano con questo gesto intende onorare la memoria dei tanti uomini e donne che sono morti per conquistare quella libertà che oggi è il patrimonio di tutti. Insomma c'è aria di zuffa, i social rimbalzano le notizie e la questura corre ai ripari. Il banchetto di Casa Pound sarà dislocato lontano da Piazza Martiri e collocato in largo melattino lungo Corso Cerulli mentre quello di potere al popolo resterà in piazza dove era previsto. Tutto è pronto per fronteggiare eventuali scontri tra rossi e neri ma le forze dell'ordine sono certe che prevarrà il buon senso. Incidente stradale questa mattina attorno alle 7 sull'autostrada A24 dove un camion frigorifero che trasportava alimenti refrigerati ha tamponato violentemente un camion silos che trasportava cemento in polvere a seguito del violento impatto che si è verificato sulla corsia in direzione Teramo a circa un chilometro dall'uscita del traforo del Gran Sasso. L'autista del camion frigorifero è rimasto incastrato nelle lamiere della cabina del mezzo. I vigili del fuoco di Teramo e l'Aquila con il supporto dell'autogru del comando di Teramo hanno dovuto lavorare oltre due ore per riuscire ad estrarre l'autista dal mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della polizia autostradale dell'Aquila Ovest, un'autoambulanza del 118 e personale dell'autostrada. Durante l'intervento il traffico autostradale non è stato interrotto. L'autista del mezzo pesante è rimasto ferito. Nel 2017 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 1029, 11 in più dell'anno precedente con un aumento dell'1,1%. Pesano, spiega Linail che ha comunicato i dati, un maggior numero di incidenti plurimi che hanno cioè causato la morte di almeno due lavoratori. È il caso delle due tragedie avvenute in gennaio in Abruzzo a Rigopiano e Campo Felice. In calo le denunce di infortunio, 630.433 con 1.379 casi in meno, pari al meno 0,2% rispetto al 2016. Sono 920 i cinghiali abbattuti dalla Polizia Provinciale di Chieti nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2017. Il rendiconto del piano di controllo è stato consegnato alla Regione Abruzzo. Sono appunto relative ad attività di Polizia Faunistica. Sono 920 i cinghiali abbattuti dalla Polizia Provinciale di Chieti nei territori di competenza nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2017. Il rendiconto del piano di controllo cinghiali è stato consegnato alla Regione Abruzzo. Sono state svolte attività di Polizia Faunistica. Questo è il termine tecnico usato dalla Polizia Provinciale, a differenza dei cacciatori degli ATC che invece praticano la caccia ludico commerciale con prelievo venatorio sostenibile. Le attività di Polizia Faunistica sono iniziate la scorsa primavera a seguito delle decine di richieste di intervento da parte dei sindaci dei comuni, soprattutto costieri e a ridosso di aree rurali regionali dove non vengono attuati i piani di contenimento degli ungulati. Interventi vengono richiesti dagli amministratori locali per esigenze di tipo ambientale, economico e sanitario come a Lanciano in località Villa Carminello dove una residente è resa sperata dalla presenza di un branco oppure a Francavilla al mare dove gli ungulati passeggiavano indisturbati nelle vie più frequentate dai villeggianti durante la bella stagione. Il sindaco Luciani ha inviato a tal proposito una lettera di encomio per ringraziare gli agenti che hanno risolto il problema. Interventi non hanno risparmiato neppure il capoluogo di provincia a causa della presenza di un branco al Tricalle. Incidenti stradali a parte ai quali la cronaca ci ha tristemente abituati negli ultimi anni, i danni più consistenti vengono subiti dagli agricoltori. Dei 920 cinghiali abbattuti, infatti, 500 hanno riguardato gli interventi richiesti dagli imprenditori agricoli esasperati dalla presenza massiccia e costante nei campi degli ungulati in branco da decine e decine di esemplari che scavano nella terra alla ricerca di cibo o che mangiano il raccolto, distruggendo tutto al loro passaggio. Le attività della Polizia Provinciale di Chieti sono state coordinate dal comandante Antonio Miri. Sarà Mauro Angelucci il candidato alla presidenza della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Chieti Pescara ha designato l'imprenditore 54enne a capo del gruppo OMA che conta circa 1000 addetti. Mauro Angelucci, già presidente di Confindustria Pescara e di Confindustria Abruzzo e consigliere della Camera di Commercio di Pescara dal 2009 sarà il successore di Daniele Becci, scomparso a causa di un malore lo scorso 6 di gennaio. Una candidatura quindi nel segno della continuità sottolinea Confindustria, mirata al bene delle imprese e dello sviluppo del territorio. Presidenti e centrodestra, e con questa notizia ci spostiamo a Pescara dicono no alla nuova pista ciclabile di Viale Muzzi anche diversi commercianti manifestano la loro contrarietà. Paolo Renzetti Commercianti di Viale Muzzi sulle piede di guerra per il progetto del Comune di Pescara di realizzare una pista ciclabile nell'importante arteria viaria del centro cittadino per far posto alla pista per le biciclette lungo la strada dovrebbero essere eliminati 30 posti auto. Gli esercenti non ci stanno e chiedono di essere salvaguardati. Togliere la possibilità agli utenti di fermarsi solo per qualche minuto di fatto io ritengo che la possibilità di fare un pit stop per ritirare un farmaco, per prendere un caffè o per ritirare un pantalone in sartoria siano delle prerogative utili e indispensabili per chi va in giro con un mezzo e levare questa possibilità penalizzerebbe sicuramente a livello commerciale moltissimo questa via. Questa pista ciclabile è invece un pezzo ideologico di sinistra perché è realizzata in una strada ad alta densità di mobilità, un asse principale. Non serve a nulla se non a rendere ancora più difficoltosa la mobilità delle macchine che si troveranno anche l'insicurezza del cordolo della pista ciclabile che gli corre a fianco gli autobus percorrono questa strada, i mezzi di sicurezza percorrono questa strada cioè è una pista ciclabile pensata male, realizzata peggio a costi altissimi. È un atteggiamento dell'assessore civitarese che è notoriamente una persona non eletto da nessuno che probabilmente ha una condotta di vita che gli può permettere di girare con la biciclettina a tutte le ore del giorno e che non si rende conto che invece ci sono vie su cui un'opera positiva ovvero la pista ciclabile diventerà solo un grande rischio oltre che un grande risaggio per residenti, cittadini, commercianti ed avventori. I lavori per la realizzazione della pista ciclabile su via Lemuzzi non sono nati contro qualcuno ma per rendere più sostenibile la città e condivisi con la comunità sin dalla presentazione del progetto ha replicato l'assessore civitarese in una nota Limitare l'utilizzo dell'automobile non equivale a morte sociale, né a ghettizzazione né a declassamento dei luoghi e degli affari ha concluso l'assessore alla mobilità che sembra voler tirare dritto per la sua strada il piano urbano della mobilità sostenibile del comune di Pescara fissa l'obiettivo di giungere entro il 2027 a mezzo metro di pista ciclabile per cittadino quindi a 60 chilometri ad oggi il capoluogo adriatico ha 28.398 metri lineari di piste ciclabili a cui si aggiungeranno ulteriori 8.239 metri da realizzare e ora ci trasferiamo a Lanciano restauro al portale di Palazzo Vergili e 15 nuovi alloggi Ater in via Righi il vice sindaco Giacinto Verna annuncia a breve le nuove assegnazioni Sarà restaurato con 17.660 euro il portale dello storico Palazzo Vergili a Lanciano si ne occuperà l'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica rispettando le prescrizioni della soprintendenza la spesa sarà a carico dell'Ater di Lanciano per il 70% tanto quanto la quota di titolarità dell'immobile per il restante 30% sarà a carico dei proprietari degli appartamenti l'accordo è stato raggiunto tra aziende e privati e verbalizzato indetermina tra i prossimi interventi a Lanciano il commissario dell'Ater Antonio Inaurato annuncia che è entrato nella fase esecutiva il progetto della palazzina di via Righi sorgerà dietro la sede della ex ASL e conterrà 15 nuovi alloggi a canone concordato e in classe energetica a più nel corso degli anni con la variante al PRG è stato tolto un piano dicono gli architetti dell'Ater la realizzazione prevede 24-36 mesi di tempo costerà 1.700.000 euro soddisfatto l'assessore comunale Giacinto Verna che sottolinea il proficuo lavoro di collaborazione tra enti la città ha bisogno di nuovi alloggi per l'edilizia residenziale pubblica ultimamente sono stati assegnati 8 case dice il vice sindaco che conta di assegnarne altre a breve Stiamo ricominciando nell'assegnazione grazie al fatto che l'Ater ci ha messo a disposizione ulteriori appartamenti da poter assegnare quindi stiamo riprendendo dopo un periodo nel quale ci siamo dovuti bloccare perché c'era una sentenza del TAR che ce lo imponeva quindi stiamo riprendendo lo scorrimento della graduatoria sia per quanto riguarda la mobilità interna sia per quanto riguarda il vecchio bando datato 2015 per quanto riguarda invece il bando 2017 case comunali penso che nel giro di un paio di mesi, massimo tre mesi riusciremo a soddisfare e quindi a svuotare l'intera graduatoria Gli alpini di Barisciano hanno donato al reparto di pediatria dell'ospedale aquilano un nuovo macchinario molto importante per le diagnosi Una prestazione aggiuntiva per le diagnosi delle malattie respiratorie dei bambini che va ad arricchire l'attività della pediatria dell'ospedale dell'Aquila grazie alla fertile solidarietà di associazioni e imprenditori Un nuovo strumento diagnostico, il nasofaringoscopio flessibile è stato infatti donato al reparto di pediatria del San Salvatore Il nuovo apparecchio è stato acquistato con i fondi raccolti dal gruppo alpini di Barisciano Ugo Piccinini che ha 250 soci con a capo il maresciallo in pensione Antonello Di Nardo e con il contributo della ditta Maico Adiocontro al centro sordità di Walter Valloreo L'atto di generosità di cui beneficia l'ospedale aquilano assume una valenza particolare poiché consentirà di dotare la pediatria di un macchinario di indagine di cui finora non disponeva Lo strumento permetterà di fare diagnosi precise e tempestive per le malattie delle adenoidi, della raringe, delle apnee o struttive del sonno Un'investigazione molto importante perché se fatta tempestivamente evita complicanze dell'insorgere di infezioni delle vie respiratorie che nel totale delle patologie dell'età pediatrica hanno un'incidenza del 10% Il miglioramento dell'assistenza a beneficio dei piccoli pazienti dell'ospedale dell'Aquila scaturisce anche dalla proficua collaborazione tra i reparti di pediatria e Torino una sinergia che permette di alzare sempre più gli standard di qualità delle prestazioni e di attrarre utenza da fuori La pediatria, che registra 800 ricoveri l'anno ha una mobilità attiva per l'arrivo di utenti da altre province abruzzesi che ti astesta attorno al 10% Va inoltre ricordato che l'ospedale dell'Aquila unico tra quelli della regione dispone del pronto soccorso pediatrico che esegue circa 8.000 prestazioni l'anno fornendo un servizio fondamentale a favore oltre che degli utenti della provincia di altre aree d'Abruzzo Presentati oggi dalla giunta Alessandrini a Pescara i lavori di collegamento della rete delle acque bianche di via Tirino alla condotta fognaria lavori che costeranno 387.000 euro Questo è l'importo ribassato che è stata vinta dall'Astra società che si occupa appunto di questo tipo di lavoro la società di Termoli che opererà con una subappaltatrice sul territorio 150 giorni e il tempo delle lavorazioni con le lavorazioni che sono iniziate questa mattina e che riguardano appunto il secondo lotto dei lavori degli antiallagamenti di San Donato e via Tirino quindi via Tirino, via Collecarullo, via San Donato insomma sono tutte queste strade che con le forti piogge diciamo erano soggette a degli allagamenti io voglio precisare che questo è il secondo grande lavoro sugli antiallagamento dopo diciamo la riviera sud abbiamo appunto la zona di via Tirino questo è il secondo lotto di questi lavori 387.000 euro che si sommano ai 350.000 euro precedenti se prima abbiamo realizzato l'impianto di sollevamento adesso andiamo a realizzare le condotte che provocheranno sicuramente un po' di disagi anche per la circolazione stradale ma che intendiamo naturalmente chiedere pazienza ai cittadini perché questo risolverà un problema veramente importante di questa zona che è quello degli antiallagamenti appunto 6 ettari è la parte complessiva in cui andremo ad incidere e su questi 6 ettari, 2 ettari circa sono quelli di superfici non impermeabilizzanti quindi è importante diciamo questo tipo di intervento è uno degli interventi più importanti per gli allagamenti nella città di Pescara Qual è l'importanza di questi lavori che riguarderanno via Tirino? I lavori sono molto importanti perché la zona negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo molto grande di abitazioni di nuove molte persone che sono venute a abitare appunto in questo territorio e adesso purtroppo questa urbanizzazione molto spinta ha fatto sì che i sottoservizi non erano adeguati quindi fin dall'inizio di questa amministrazione è stata posta priorità appunto agli allagamenti e quindi noi con questi lavori speriamo di risolvere definitivamente il problema che colpisce molti cittadini E ora apriamo la pagina dello sport parliamo di Pescara sul versante del mercato e sull'asse Pescara-Udine si sta consumando una importante operazione in uscita Francesco Zampano e Mamadou Koulibaly mentre dal club friulano è in arrivo il centrocampista svedese Svante, Ingelson, Macin, Rosati e Fiamozzi sono altri nomi per il fronte delle entrate ma sono diverse anche le cessioni da perfezionare per consegnare al tecnico Zeman una rosa di 25 elementi Francesco Zampano può riabbracciare Massimo Oddo nelle ultime ore ha avuto una improvvisa accelerazione una trattativa sull'asse Udinese-Pescara che può muovere tre giocatori oltre a Zampano anche Mamadou Koulibaly e con percorso inverso Svante, Ingelson Koulibaly è già da questa estate un calciatore dell'Udinese con cui è sottoscritto un contratto quinquennale con l'intesa di restare in prestito un anno in rival adriatico il centrocampista senegalese però anticiperà il ritorno in Friuli e nel tragitto che porta verso Udine sarà accompagnato da Francesco Zampano il quale si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto con la formalizzazione dell'operazione il Delfino avrebbe portato a termine un'altra cessione eccellente al pari di quella di Ben Ali ovvero uno dei giocatori che ha fatto parte del gruppo della promozione in Serie A targata Oddo anche se per entrambi si tratta di prestito e nel corso dell'estate le rispettive società Crotone e Udinese decideranno se esercitare o no il riscatto dall'Udinese è in procinto di trasferirsi a Pescara il centrocampista Svante Ingelson svedesone di quasi un metro e novanta classe 98 centrocampista mezzala duttile e con un buon senso del gol tre presenze stagionali con i friulani due in campionato una in Coppa Italia sempre per il centrocampo e a buon punto la trattativa con la Roma per l'arrivo di un altro centrocampista Jose Macin nativo della Guinea Equatoriale cresciuto in cantere in quali quelle di Barcellona e Malaga in Spagna il giocatore viene da una serie di prestiti lo scorso anno a Trapani quest'anno al Brescia con cui ha realizzato proprio in rivale adriatico l'unico gol stagionale al Pescara arriverebbe con la formula del prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto sempre sul fronte arrivi poi Riccardo Fiamozzi è il giocatore scelto per sostituire Zampano per lui che ora è al Bari ma di proprietà della Genoa si tratterebbe di un ritorno per il ruolo di portiere il profilo individuato è quello di Antonio Rosati del Perugia classe 83 a fare vicino alla conclusione sul fronte delle uscite oggi è il giorno di Nando del Sole alla Juventus e poi lo sfoltimento dovrà proseguire in questi giorni con Baez e Latte Latte da rimandare a Fiorentina e Atalanta cessione o risoluzione per Stendardo il Lecce che attende di capire le condizioni di Selasi il giocatore sta smaltendo una pubalgia se dovesse superare le visite mediche firmerà il contratto con la formazione Salentina troverà sistemazione anche uno tra Cocco e Cappelluzzo l'altro sarà il vice Pettinari da valutare anche le posizioni di Bovo e Campagnaro che difficilmente andranno via su Forte c'è il Monza Milicevic è in prova in Ungheria all'Ombed Budapest e oggi per i biancazzurri seduta singola mattutina preoccupano le condizioni del neo arrivato Filippo Falco che ieri nel corso della seduta di allenamento ha riportato una distorsione la cui entità è da verificare sicuramente il giocatore salterà la gara da ex di venerdì contro il Perugia intanto nella vittoria di Foggia di sabato scorso è stato tra i migliori in campo il difensore Andrea Coda che sta attraversando un ottimo aumento di forma e forse si trova nel suo periodo migliore da quando è arrivato a Pescara indossa la divisa biancazzurra ascoltiamolo al microfono di Paolo Renzetti Siamo stati bravi a sfruttare l'occasione con Leo e a mio avviso un'altra occasione con Pettinari potevamo far meglio però il Foggia comunque ha fatto la sua partita perché hanno preso anche due pali un paio di tiri fuori di poco quindi sicuramente quello che dobbiamo ripartire sicuramente dall'atteggiamento è che nelle ultime quattro partite siamo riusciti a essere cinici allo stesso tempo comunque quando le squadre avversarie ci hanno messo sotto come tra virgolette giusto che sia perché è impensabile attaccare 90 minuti siamo stati bravi a chiuderci a battere colpo su colpo e questo come ho detto anche in settimana dobbiamo ripartire da questo perché abbiamo visto sulla nostra pelle il giro nell'andata che qualche punto di troppo l'abbiamo lasciato superati i problemi fisici si sta vedendo il miglior Andrea Coda ti vuoi tenere estretta questa maglia di titolare del Pescara? Io sono sempre a disposizione cerco di gioco perché mi diverto ho passione e se non fosse più così sarei il primo a smettere perché io sono comunque uno sanguigno e uno che tra virgolette sento tanto le partite quindi dal momento che non ho più questo mal di stomaco prima della partita smetto E ora ci occupiamo di Serie C e di Teramo che giocherà sabato prossimo un match molto delicato contro il Ravenna c'è la designazione arbitrale Marco Ricci di Firenze è l'arbitro che fischierà il fischio d'inizio della gara del Benelli gli assistenti Martinelli di Seregno e Amantea di Milano ma dopo il cambio tecnico con Palladini al posto di Asta in casa Teramo si sta per concretizzare anche l'addio del direttore sportivo Giorgio Repetto al suo posto siederà Sandro Federico ora però completata la rivoluzione serve operare sul mercato per trovare un attaccante in grado di cambiare il volto del reparto avanzato Bianco Rosso il servizio di Jacopo Forcella Tutti quelli che hanno cambiato allenatori ci hanno sorpassato tutti no? quindi torniamo a sorpassare gli altri Il teramo di Ottavio Palladini tornerà a giocare con il 4-3-3 in attesa di un attaccante che possa portare in dote quei gol in grado di tirare fuori il diavolo dalle sabbie mobili di una classifica che in questo momento vede i bianco-rossi al terzo-ultimo posto una posizione però che per il patron Campitelli non rispecchia il reale valore dell'organico Nella testa di tutti oggi il teramo se era ultimo era il suo posto io penso che il teramo sia dal settimo all'undicesimo all'undicesimo posto e lo penso perché perché credo che questa squadra abbia una bellissima difesa un grandissimo centrocampo forse se manca manca un attimino davanti però questo sempre piangere di fronte alle telecamere è una cosa che mi ha disturbato dalla prima volta che qualcuno si è messo a piangere che qualcuno si parla solo di salvezza nella vita la positività anche con una squadra mediocre bisogna sempre darla perché quel pizzico di positività porterà alla fine 4, 5, 6 punti che fanno e faranno la differenza Per Palladini la Rosa ha già degli elementi validi e una struttura abbastanza riconoscibile l'obiettivo mio principale è quello cercare di dare serenità entusiasmo e liberarli da ogni diciamo così cavillo che possono avere nella loro mente e secondo me il teramo di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso ha giocatori di qualità uno può essere Balcio Terracino Tulli è un giocatore che ha grosse qualità ma che deve secondo me essere più concreto secondo me ci sono giocatori dinamici a centrocampo che ti possono dare alternativa che sono Varas dei Grazia c'è un centrocampo un bel assortito dei difensori esperti perché secondo me i difensori sono esperti sicuramente centravanti con il presidente è la prima cosa che abbiamo cercato di individuare perché per vincere le partite ci vogliono e i giocatori che fanno gol intanto oggi ci sarà l'addio con il direttore sportivo Giorgio Repetto il suo successore Sandro Federico dovrebbe insediarsi nelle prossime ore iniziando quella campagna rafforzamenti che prevede l'arrivo di Idrissa Camarada e Lavellino che tuttavia da esterno non può risolvere totalmente il problema del gol per la prima punta però bisognerà attendere ancora un po' non lo so adesso lavoriamo con quelli che abbiamo a disposizione e cercheremo di tirare fuori il massimo noi faremo il massimo quindi noi dobbiamo fare il massimo è tutto per questa prima edizione del TG6 i prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23 poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la prima trasmissione il primo numero del 2018 di Proteramo con la conduzione di Jacopo Forcella grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti